Portando a casa degli elementi nuovi con i nostri elastici, salapesi, prendiamo un elastico pesante, lo mettiamo sotto un piede e andiamo a fare un affondo assistito, ok, proprio per i glutei, su e giù. Salgo e scendo e lo facciamo, ok, con questa nuova tecnica di elastici, uno e scendo. Allora, schiaccio e scendo, quando scendo voglio che spingete molto sul tallone e uploado immediatamente questo video. Oggi stesso ho fatto una promessa e una promessa va mantenuta, anche se non è prima di questi esercizi o prima di questi allenamenti che sto facendo per voi, proverete sempre di più da settembre in poi questi allenamenti con gli elastici per replicare e simulare un attrezzo di una salapesi a casa. Su e scendo, schiaccio e scendo, schiaccio e scendo, gluteo e scendo. Senti quanto arriva proprio bene bene, and stop. Ok, dieci secondi, che cosa stiamo facendo? Super serie. Porto l'elastico sotto i piedi e andiamo a lavorare sui bicipiti. Piego e porto le braccia su e giù, bicipiti. Come se ci avessi due pesi, ovviamente se oggi non hai elastici puoi tranquillamente usare i vostri pesi. Ma sto provando a dire che gli elastici innanzitutto possono partire con noi, viaggiare con noi dove non pesano. Ci pesano anche l'anima sugli aeroplani. Ma la cosa importante è lavorare con delle intensità importanti e ti sto facendo allenamenti come se fossi in sala pesi. In sala pesi che cosa faccio? Lavoro a circuiti, non circuiti, scusami, a serie. Vai, si può anche lavorare a circuiti. Due, and uno, and relax. Quello a fondo è la partenza dell'elastico molto basso. E guarda che faccio. Gluteo in avanti, busto indietro. E busto che avanza per permettere una spinta su tallone per portare la gamba in avanti. Su, scendo e provate di sentire proprio il gluteo che quando viene su ti schiaccia. Su, scendo e provate di sentire proprio l'elastico per essere sicuri che non ti scappa via. Vai, and vai. Continuate su e giù. Quattro, and tre, and due, and uno, stop. Prendete l'elastico, accorciate la presa e andiamo a diventare l'altra che tira su. Devi sentire ovviamente il braccio in tensione e questo sta lavorando. Non puoi anche allontanare. Devi toccare la spalla su e giù. E questo lavoro ci aiuta proprio con i bicipiti. Perché l'elastico è intelligente. Quando vogliamo fare sale e pesi a casa. Lavoro. Sto facendo tanto, lo vedrai nel vostro bikini challenge. Lo vedrete da settembre. Tanti, tanti, tanti quei allenamenti dedicati proprio a sale e pesi. Più o meno. Due, and uno. And giù. Giù. Scendo. Ci mancano ancora due, ragazzi. Sollevo. Divarico. Divarico, ditemi che non state sentendo tanto sull'esterno coscia. E tanto sui glutei. Le mie elastico, lo sto usando quello più pesante in assoluto. E ovviamente quello diventa quello che io chiamo cemento armato. L'elastico cemento armato. Lo senti tanto. Lavoro tanto. Mi proteggo il viso. Perché quando facciamo i quei altri 45 secondi non ci riesco a proteggere il viso. perché c'ho gli elastici, le mani che trattengono l'elastico. Sette. Cinque. Quattro. Tre. Due. Non so voi, ma sento le mie glutei che cominciano a chilosarsi. Cioè, proprio sono parecchio incisi, parecchio provati. Ok. Su giù. Opla. Continui. Elastico sopra il ginocchio. Su giù. Schiaccio e scendo. Schiaccio e scorcio con l'elastico più possibile. Per darti il massimo della resistenza. Io tengo i lati del mio tappetino con l'elastico per bloccare al meglio. Schiaccio i glutei in su. Le ginocchia rimangono divaricate. Ci manca dopo di questo soltanto due esercizi e avremo finito. Poi andrò a montare questo e montarlo e metterlo immediatamente in onda. In rete per voi. Vai. Su e giù. E su e giù. Tre secondi. And due. And uno. Vi garantisco che domani... Tu segnerai questo lavoro. Tu dici... Ah, ieri ho lavorato i glutei. Ok. Bravi ragazzi. Libero l'elastico. Vado a montare questo video e lo metto online. Questa è la versione corta per vedere la versione lunga. Upla. Ci dimenticate testa. Il video lo potete trovare su nowgcuber.com e per il resto è una volta favolosa. Adesso segno di volerci bene attraverso lo sport. Ciao.